parto col dire che youtube si arrabbierà come una bestia con me perché porterò questo contenuto veramente molto obsoleto però ragazzi voi non avete idea di che cosa ho in mente di fare allora per prima cosa noi creiamo un nuovo mondo facciamo la creazione del nuovo mondo e ragazzi vi risparmio la creazione qui ci vediamo dentro intanto vi ricordo l'iscrizione al canale perché è molto importante questa sarà una serie veramente un pochettino diversa dal solito da quella che vedrete e che avete visto sempre nel mio canale ho deciso di portarvi questa cosa adesso comunque ne parleremo insieme di che cosa ho in mente di fare allora come possiamo vedere qui ho aggiunto una specie di minimappa sopra per aiutarmi comunque nell'impresa di queste cose allora questa sarà una semplice survival di minecraft una classicissima una veramente non so che dire ragazzi è veramente incredibile nel senso che siamo in difficoltà normale è una normalissima ma veramente normalissima sopravvivenza solo che in certe volte potremo incapparci in tante piccolissime cose che cosa sto dicendo? avete presente gli youtuber? gli youtuber hanno il loro mondo il loro seed perfetto io ho in mente di fare una cosa praticamente questa sarà la mia serie di minecraft in cui adesso vedrete che comunque sarà abbastanza monotona perché comunque all'inizio è sempre le solite cose che bisogna fare però ragazzi dovete assolutamente guardarvela episodio per episodio perché vedremo delle cose secondo me incredibili perché allora come prima cosa dobbiamo farci sicuramente ma sicuramente la nostra piccola casetta ok qui ho avuto anche una bella fortuna allora ci facciamo la nostra classica casettina perché comunque devo farmi la base perché voglio ricordarvi che questa sarà una serie molto particolare si ve lo ripeto ancora ma perché comunque dopo magari perché youtube dopo magari si arrabbia credendo che questa sia una serie veramente monotona una serie survival in realtà si è una serie survival quindi sto facendo una serie survival quindi ragazzi sto veramente in panico oggi incredibile qui ho trovato una specie aspetta che ho il saldo automatico ma stiamo scherzando ma io ho il saldo automatico ah no non ce l'ho perché mi ha saltato? vabbè ok ragazzi manteniamo un pochettino la calma manteniamo la calma perché comunque le scene stanno diventando le cose veramente incredibili allora direi di prenderci altro di questo comunque scavando ho trovato questo specie di buchetto quindi suppongo questo ci riduca nell'aldilà del mondo come potete vedere meglio non andare a approfondire che cosa si nasconde di sotto allora ci facciamo la nostra fornacina direi ragazzi di assolutamente di farci una base non dico qua però magari da altre parti però bisogna comunque farla ok il ferro ce lo stiamo già facendo mi serve anche un po' di carbonella quindi colgo l'occasione per magari prendere un alberello lo prendo da qui come possiamo vedere ho messo anche la minimappa in alto a sinistra che comunque davanti a me c'è anche una bella palude via per di qua di là c'è anche una paludina e infatti è quella lì e vabbè vediamo allora facciamo una roba così allora mi sono fatto questi ci facciamo così intanto che la fornace si fa perché comunque vorrei dimezzare un pochettino i tempi facciamo così e ci facciamo un'altra fornace dove noi andremo a cuocere la carbonella ok ragazzi allora stavo dicendo che praticamente questa sarà una serie particolare perché porteremo una serie con di youtuber che cosa sto dicendo allora questa è la mia classica vanilla quindi una vanilla veramente classicissima però a un certo punto ok qui è finito andremo a cazzo delle case di youtuber perché in questa serie ragazzi non vi ho detto perché non vi ho mostrato il seed e non voglio mostrarvi assolutamente il seed a meno per adesso però ragazzi arriviamo a un tot like e magari ci posso anche ripensare e praticamente qui ci sono tutti i seed degli youtuber bisogna andarli a trovare però comunque sarà una bella una bella camminata per questo ho messo la minimappa anche sopra perché così riusciamo un po' ad orientarci perché qui possiamo trovare comunque un po' di case degli youtuber perché comunque un mondo che usano tutti gli youtuber italiani o se non tutti quasi tutti so che allora kendall c'è sicuramente poi c'è bella faccia poi comunque avremo anche tanti ma tanti altri youtuber lion non lo so perché comunque so che siete anche tanti amanti di lion bisogna vedere non vi sono informato però comunque un seed è veramente particolare allora questo non lo trovate vi dico che non lo trovate nemmeno sul web dovete fare una ricerca approfondita su un qualche sito web però un qualche sito un pochettino non dico illegale però ci siamo quasi allora sto prendendo intanto un pochettino di cibo perché comunque sarà molto importante il cibo anche per noi perfetto allora lì vedo già delle cosette direi di andare verso di là comunque come vi ho detto all'inizio vi ricordo di iscrivervi al canale e di continuare a guardare questa serie perché sarà una delle mie serie principali in questo canale tra poco comunque saremo anche alla soglia di 10.000 iscritti quindi colgo l'occasione anche per ringraziarvi siamo comunque a 6400 una cosa del genere però siamo cresciuti veramente molto in fretta quindi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti voi allora qui trovo altri animali ci facciamo così ok perfetto ci facciamo fornire questa mucchetta qua lo so che adesso voi aspetterete che io vada a trovare le cose degli youtuber lo so ragazzi lo so lo sto aspettando anch'io sinceramente però ci arriveremo col tempo ci arriveremo col tempo può essere questo episodio come può essere quello prossimo io non ne ho idea però comunque l'unica cosa che posso consigliarvi è di continuare a guardare questo video e di continuare a guardare questa serie soprattutto perché sarà veramente molto ma molto particolare e sarà veramente incredibile direi anche ok direi di andare già subito in qualche caverna perché comunque ci facciamo già delle belle cosette vabbè intanto direi di fare così mi stanzi un pochettino qua allora qui ci facciamo così qua ci facciamo così così abbiamo già un po' di cibo da fare un pochettino di cibo qui abbiamo già i nostri primi materiali anche se mi serve un alberello un alberello lo posso trovare via per di qua ok ragazzi aggiunti a questo punto del video vi ricordo comunque l'iscrizione perché come sapete come vi avevo sempre fatto vedere solamente il 3% che guarda i miei video è iscritta il 97% non è iscritta come fate a fare così? ma ragazzi mi raccomando iscrivetevi perché ne vedrete di belle su questo canale non sono qui per raccontarvi balle sono qui per raccontarvi Grimis tutta la verità e tutte le cose che stanno succedendo nel mondo di YouTube Italia o nel mondo comunque di YouTube in generale anche se sinceramente delle serie magari delle persone che trovate in giro non ne sono molto a corrente allora ci facciamo il nostro piccolo piccone perfetto ragazzi direi di andare di spada facciamo una bella spada e poi ci facciamo una bella ascetta una bella palla scusate ok lascia però si lascia non ce l'ho e vabbè facciamo una cosa del genere ok qui abbiamo anche gli squid quindi mi raccomando ragazzi mi raccomando mi raccomando mi raccomando per adesso comunque come ho detto magari all'inizio i primi episodi sono incentrati sul farsi magari sul farsi quella piccola casetta quella piccola base per poi dopo andare a esplorare in giro che cosa succede che cosa c'è in questo piccolo mondo incredibile comunque se vedete qualcosa magari in video o se vedete magari qualcosa minimappa fatevelo sempre sapere magari mettendo il dopo me il link sotto qui sotto in descrizione ok abbiamo il nuovo di pietrisco ci facciamo la nostra bella ascetta e direi che siamo pronti ragazzi ufficialmente per crearci una nostra bella casetta anche se sta già calando il sole e quindi penso che la mia casetta aspetterà man mano che comunque andremo a avanti con gli episodi e niente ragazzi grazie per la visione di questo video io adesso comunque dormo perché non voglio assolutamente mostri aspettate un attimo non voglio assolutamente mostri nelle vicinanze vi ricordo comunque l'iscrizione al canale like se volete ancora questi video qua se volete questa serie che continui che vada avanti per portare un qualcosa di diverso e niente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti